locali e quando si cazzeggia raga quando si cazzeggia ma io e tu stai ma la botta io sono nessuno lo sono sempre stato ti auguro una buona giornata meno male meno male che lo sa che nessuno meno male che lo sai fra orina sono razzo coppola proprietario dell'import piacere signore ok questo che giochiamo a chi ce l'ha più lungo nooo come via le violi gioca pallone ma tu ma che paletto via il buritto puoi buon giorno buon giorno a tanti amici 303 perché perché la pinta è coperti è la pinta è coperti penso che se uno mi sveglia questa canzone gli meno l'ho più chiuso ci ritare posso dirlo signora a vedere quello che ho visto ieri un attimo che la tabba ade un attimo che torna in gioco come scusi posso dire quello che ho visto ieri non so se quella è casa sua ma ahahahahah ho capito capito cosa procedo dove mi prendo 2.000 dollari il libro del giugno signori mi spiace è un incrocio come stava tendendo eh ma tu mi sei venuto addosso voglio un risarcimento dispiace cosa? è un incrocio tra l'incrocio puoi fare gli incidenti eh ma tu mi sei venuto addosso non è che se hai verde puoi andare assolutamente no scendi la staccazzola di macchina scendi la macchina ha fatto l'effetto che grande che grande ti devo ammazzare diminui oh madonna oh madonna oh madonna 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 no pare gli hanno sbagliato guarda basta che guarda le nocchie di nadir che ci sono tutte rotte eccolo va orca ah ma ma mi trovi è tirato di palle di spalle non l'ho visto nulla adesso ti sono messo in testo le mani minuto buona ma possiamo vai sotto la doccia Fernando Torres va sotto la doccia io sto ridendo per la casa di ti preparo la pare addirittura se mi prendeva 5 5 5 5 36 469 no la scimmia la scimmia amica ma one shot sti cosi mamma mia ma one shot ma a sto punto usiamo questa e non la pistola che cazzo serve la pistola hai segnato il numero dai dammi il tuo si ma segna degli numeri 5 5 5 5 3 4 2 3 4 2 8 7 3 4 2 8 7 3 4 2 3 4 4 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 11 10 12 12 11 11 12 12 13 14 15 Non vale, ho sbagliato la prima curva. Che cazzo fa? Cioè, dei miei pensieri molto brutti mi hanno detto di premere un muscolo F per il nose. Ho già creduto. Tutto bene? Sveglio? Io se sbatto mi fermo come al palo. Ti prego, vai a guardare i miei occhietti. Ho visto che ha preso un'auto io. Io devo comunicare quello che vedo. Allora fai così adesso. Vai a guardare un attimino i miei occhietti. No, non andrò a guardarmi i tuoi occhietti. Anche perché non mi sembra cosa da dire durante una rapina. E soprattutto mettere in pausa una cosa del genere. Vabbò, succhiamo, frate. Ciao. Vabbè, vabbè. Dai, vabbè. Tre quarte cazze. Sono tre ore che fanno le cazzate loro. Qu momentos van ognfore? S blev.